Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Voglio segnalare un pazzo che sta andando contro mare in un'autostrada ad una velocità folle e sempre qui all'altezza del raccordo per Milano c'è un fuoristrada intraversato, un Toyota RAV4 grigio. Grazie a tutti. Ah, un Q7? Sì, deve essere un Q7. L'han preso. L'incidente è qua, è l'incidente è qua. A che altezza siete? Polizia? Sì, qui è successo un incidente qui sulla 26 qua. Ah, sì, lo sappiamo o stiamo intervenendo? Ah, no, perché io mi sono fermato qua col camion perché qui c'è un matello lungo tutta la strada. Sì, no, è stato un po'… ma lei ha visto per caso la condizione delle auto? Sono qui davanti a quella che c'è qui davanti, per me ci sono dei morti, sì, sì, no, c'è la macchina che è distrutta, è disintegrata veramente. C'è un'altra parte dei SUV? Un SUV è indietro, più avanti contro il guardaio, il consiglio di sorpasso c'è un'altra… Un'utilitaria quindi? C'è un matello qui. Ok, no, no, ma stiamo intervenendo, vedrà che se ne no… C'è un… da tutte le parti. Va bene, ciao.